Ciao ragazzi e ragazzi, io sono Fulvio degli Innocenti, sono una scrittrice di libri e oggi vi voglio presentare un mio romanzo thriller che si chiama Sottovoce ed è pubblicato dalla casa editrice Pelle Doca che come dice il nome stesso è specializzata in storie di paura. Sottovoce è un mystery, un horror e anche un giallo che vi terrà incollato alle pagine fino a un colpo di scena finale. È la storia di Caroline, una bambina che ha un dono speciale, ascolta le voci dei morti, soprattutto di bambini come lei, se ne accorge quando va a visitare la tomba del nonno al cimitero. All'inizio non ci fa caso, poi non vuole più andare al cimitero perché queste voci la inquietano, fino a quando si trasferisce con la madre e il fratello in una casa molto carina, con un giardino, lei vive in una favolosa mansarda, ma lì vicino c'è un vecchio cimitero abbandonato e le voci tornano a farsi sentire, pressanti, inquietanti, di notte, sotto forma di incubi. Lei adesso è cresciuta, ha 12 anni, vive male questa cosa, confida la madre, la madre non ci crede ovviamente, ma poi avviene un altro trasloco. Stavolta vanno a vivere in una cittadina che si chiama Litzwin, niente cimiteri, niente più voci. Tutto sembra andare per il verso giusto fino a quando le voci tornano a farsi sentire, ma stavolta sono voci ben precise, sono tre, sono di tre ragazze. Chi sono? Perché si fanno sentire? Qual è stata la loro fine? La nostra protagonista adesso ha 14 anni e prende la situazione in mano, vuole indagare, vuole saperne di più e insieme all'amica del cuore comincia a fare un viaggio a ritroso in un lontano passato quando una dopo l'altro tre adolescenti sono misteriosamente scomparse senza lasciare traccia. Sottovoce, pelle d'oca di Fulgia degli Innocenti. Buona lettura!